L'ultimo frame di questo video ci mostra una testa in mezzo alla folla su cui si sta per abbattere minacciosa una mano si pensa a uno schiaffo, si pensa a uno strottone quella testa è di Gianfranco Fini presidente della Camera la terza carica dello Stato nella nostra democrazia ebbene ieri Fini è stato aggredito dai fascisti, dai suoi ex compagni anzi ex camerati al funerale di Pino Rauti nella Basilica di San Marco appoggiata alle spalle di Palazzo Venezia dove si affacciava il Duce Fini era lì per testimoniare la sua partecipazione al dolore della famiglia ma la sua presenza non è stata aggredita e questo non è piaciuto ai fascisti che lo hanno aggredito letteralmente non è stata una contestazione pacifica come possiamo vedere è stata una contestazione violenta fatta di urla, schiaffi sputi e cori contro la terza carica dello Stato Fini in fondo è stato l'unico missino a rinnegare il fascismo lo fece a Gerusalemme nel 2003 tutti gli altri non hanno mai del tutto rinnegato quella storia e nonostante la diaspora le mille sigle nate dopo la fine dell'MSI la nascita di A.N. tutti gli altri erano lì dalla russa a Gasparri dall'Andolfi persino il neofascista delle Chiae erano lì a rendere omaggio a Pino Rauti un tempo definito il Gramsci Nero la cui figura di intellettuale ha affascinato tanti giovani di destra ma alla fine quella che conta è la sostanza e cioè i saluti fascisti all'uscita della bara che ci pongono un interrogativo ancora drammatico nonostante gli anni trascorsi i decenni trascorsi dalla nascita della nostra Repubblica ancora oggi la nostra Costituzione si può definire antifascista? Siamo oggi pronti noi italiani ancora schiavi di vecchie ideologie ad affrontare le sfide del domani e comprendere i grandiosi misteri dell'universo? Sì! Armi! 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 Armi!